Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale e oggi andremo a provare un gioco che vi farà impazzire ovvero non è sniper 3d cioè il diminutivo è quello solo che non proprio conoscete tutti i sniper in vita a quanto pare sapete quello lì si ammenta nella guerra beh questo qui è un po' simile e diciamo no che cazzo non le voglio fidanzate non le voglio figli fanno di omogenizzato no dai scherziamo e per tutti quelli che abbiano dei figli no sono ancora bambino però vabbè e bene oggi giocheremo a parca di piccola bottiglia per chi mi seguia il bambino per favore non prenda le mie parole oggi giocheremo a a questo mi piace? venisco il giornaliero di squadra non so perché quando registro tutto va più lento ma giocheremo a sniper 3d assassin si spara per uccidere posso iniziare a giocare ora? mi si è tracciato tutto bellissime facciamo un po' di missione principali dai dove faremo una missione ricercata così tanto per farla scusate la lentezza ma è solo quando registro e fa così come se me lo vuole fare a posto però non penso proprio è proprio usare vabbè una giornata come altre in russa in russia elimina le guardie nel russia che non fai soli rimanendo il sud il guardie del corso ai tetti permettendo l'accesso alle unità speciali effettate 4 uomini armati allora è 40 più quindi così oh penso abbia fatto male Aspettate, lì ce ne sono ben altre Non so che stanno sparando Ok Ora uccidiamo l'altro Uccidiamo l'altro E dove cazzo sta andando Ok, ora L'ultimo Perché quello l'ho ucciso Le altre tre Ora rimane l'ultimo Ecco proprio lì Ora c'è Per chi non conoscesse questo gioco C'è una scena troppo bella Quando uccidi o l'ultimo O quello Cercherò di farvela vedere Con un colpo in testa Ecco Ancora sta morendo No, è morto Cazzo di tutto Sì Ed è questa Il proiettile è rallentato La gattiveria Tra l'altro Un bel buchino lì Che si può vedere anche E lasciamo perdere Ce l'ho fatto un buco nel capezzolo Quando sono bravo a questi giochi Ma che bello Bene ragazzi Ora facciamo Missioni Missioni Cosa? Tutti Siamo un po' più tranquilli Perché non c'è Giovere Grazie a Dio Per favore Non guarda questo video Anche se lei c'ha le notifiche C'è Ma va a fa' Quella Dunque facciamo Una missione Di cercato Come vi avevo promesso Inizio la missione Spero sia il fucile Accettiva Perché quello lì Sarà il fucile migliore Per fare La missione di cerca Pongo Aspetta che carica Aspetta che carica Ok Perfetto Notiamo benissimo Della foto Che c'è una malletta Che scritta Sì La tantina Bianca E Camara E Capita Vabbè Poi Quello che ho fatto Ve l'ho leggete Vabbè Un mizzerige L'ho visto Ma si bravissimo A nasconderti Frate Sì 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 Proiettilo E' in testa Aio Che gli ho capito i capelli Ma che dapparetto è Ok Ok E' doloroso E' doloroso vero E' doloroso Non lo so E' comunque Se mi spunto la pubblicità Mi suicidio Se mi spunto la pubblicità mi suicidio Ah voglio che la capita Beh Poi facciamo evasione Ok Spericuzione Che c'è la cosa La mitragliatrice Per questo Difficile Che mi sono andato E Sì 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 No Dai Ma perché il cerchino No dai Con la mitragliatrice Mi viene meglio Esci Tutta la vita Esci Va bene E Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non ci cagare il carro No E dai Ok E Forza Sprichati però Mamma Sì 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 Ehm Vabbè ragazzi Quella di prima Era una cosa Strana Ora vai Ma Diego Scusa Che ti fai dire Vabbè Avete sentito Non voglio Vabbè Vabbè Comunque Basta così Può passare Sì sì Bravo Dopo due ore Ma che cappa Io posso cambiare Videogame però Che cappa Ma Magic Tiles Che bello Non ho ruotato il corso Vabbè Rata tutto Ok ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Fate tante visualizzazioni Condividete il video E mi raccomando Lasciate dislike Ai video Che farà gioere Se sempre li farà E niente Ah e mi sono dimenticato Di dirvi Ciao ragazzi Ciao ragazzi